Ok amici, ho dimenticato a casa la GoPro ma mi sono arrangiato con la telecamera, con la fotocamera del cellulare e vediamo se la giornata è veramente una bomba, vediamo se gira qualcosa Grazie a tutti 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 Due slamate così non vanno per niente bene scendo con la dimensione degli assist, vediamo Allora adesso ho provato a montare un 2-0, due assist, un doppio assist 2-0 Van Fugito, van Fugito, van Fugito, van Fugito, van Fugito, vediamo come vanno Grazie a tutti 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 Grazie a tutti